A differenza degli ultimi anni abbiamo anche un'iniziativa più concreta della solita diffusione di volantini o di informazioni perché faremo anche dei controlli della vista gratuiti in sede. In particolare la prevenzione del glaucoma è una cosa molto importante perché il glaucoma è una delle malattie più diffuse ma meno conosciute e quasi asintomatiche, quindi è molto difficile fare questo tipo di prevenzione. Per cui è importante che la cittadinanza sappia che nella settimana che va dal 6 al 12 marzo ha possibilità di chiedere informazioni e soprattutto di venire a fare dei controlli della vista gratuiti in sede da noi, semplicemente prenotandosi allo 0721 41 61 71 e fissando un appuntamento per il 12 di marzo. La settimana mondiale del glaucoma sono anni ormai che noi partecipiamo a questa iniziativa e anche quest'anno faremo diffusione di opuscoli informativi a Fano nelle due giornate di giovedì e di sabato 12 e contemporaneamente a Pesaro appunto faremo queste visite gratuite grazie alla disponibilità del dottor Francesco Gaudenzi, oculista quindi esperto di glaucoma. Il glaucoma è una malattia che viene definita il ladro silenzioso della vista, nel senso che è legato alla malattia del nervo ottico causata prevalentemente ma non esclusivamente dall'inalzamento della pressione oculare, la quale può schiacciare il nervo e normalmente provoca dei danni non alla visione diretta, quindi alla capacità di lettura, ma compaiono delle macchine nel campo visivo per cui il paziente non se ne può accorgere. L'evoluzione di questa malattia quindi è lenta e subdola e spesso e volentieri ci troviamo davanti a persone che hanno già perso un occhio completamente e stanno perdendo l'altro perché poi i campi visivi si sovrappongono e non ci si accorge che un occhio se ne sta andando. Quindi è molto importante controllare innanzitutto la pressione oculare e questo farlo in maniera importante dai 40 anni in poi. Solitamente esistono forme di glaucoma che sono anche giovanili e congenite che ricevono, riconoscono degli interventi già in ambiente ospedaliero, quindi vengono già diagnosticati prima, mentre invece le forme che si verificano più tardi nella vita hanno bisogno di un'attenzione particolare cioè il paziente o comunque le persone in genere devono sottoporsi dai 40 anni in poi a un depistage, controllare la propria pressione e non solo, farsi una visita oculistica da uno specialista che possa controllare anche gli eventuali danni al nervo ottico. Grazie.